Benissimo, allora quasi quasi riprendiamo, così che cerchiamo di dare spazio anche ai relatori dell'ultima parte. Come primo relatore vi intrattengo io, con una presentazione un po' diversa da quelle che abbiamo visto finora. Io purtroppo per fortuna sono un accademico, quindi mi sono posto a una questione piuttosto fondamentale e ho cercato di dare una risposta sulla base di quelle che sono le mie conoscenze. Io sono un ingegnere energetico sostanzialmente, quindi se la trovate particolarmente noiosa mi scuso, ma diciamo così ero ansioso di cogliere l'occasione di questo incontro, di questa conferenza per raccontare un po' qual è la mia linea di ricerca, qual è un pochino il risultato di diversi anni di lavoro. Il tema è le basi fisiche della sostenibilità. Effettivamente noi abbiamo visto moltissimi interventi molto interessanti e sono state portate all'attenzione diverse motivazioni di tipo fondamentalmente economico, etico, ma diciamo tutte queste motivazioni sono sicuramente interessanti, valide, più che valide, non voglio dire che devono essere considerate di scarso rilievo, però effettivamente è anche vero che le motivazioni di tipo estetico o di comfort, che è molto più confortevole vivere in un ambiente sano e integro piuttosto che in una bidonville inquinata e degradata, oppure etiche, che sotto varie declinazioni dicono che in qualche modo l'uomo è il custodio del pianeta, non può ridurlo a una grande discarica, oppure di tipo economico, quindi è tutto sommato, è conveniente, ecco tutte queste motivazioni sono soggette a compromessi ovviamente, quindi sono giustamente o ingiustamente, ma è così, soggette in qualche modo alla cultura dove ci troviamo, o al compromesso che siamo disposti ad accettare e così via, insomma. Ma ci si può anche chiedere se esistono delle motivazioni di tipo più profondo, diciamo delle motivazioni in qualche modo analoghe a quelle che sono i principi della fisica. I più celebri esempi, almeno per me, i più celebri, sono i tre principi della termodinamica, che molto molto semplicemente possono essere riassunti in maniera divulgativa, come il primo principio, esiste un potenziale chiamato energia, questo potenziale non può essere né creato né distrutto. Il secondo principio, il calore diffonde dalle parti caldi a quelle fredde, e non viceversa. Anche questo mi sembra molto ragionevole. Poi esiste anche un terzo principio, che serve in qualche modo per dare una coerenza logica agli altri due, ma diciamo che non ha una grandissima valenza pratica, nessun sistema reale può essere raffreddato al di sotto dello zero assoluto. Esiste questo limite assoluto. Benissimo, questi tre principi sono molto accettati, sia nell'ambiente fisico, scientifico, che ingegneristico, ma, disgraziatamente, nessuno di questi spiega l'insorgere e l'evolversi di strutture complesse, quali noi invece vediamo nella realtà. Strutture, sia viventi, in qualche modo ecosistemi, ma anche forme di vita molto semplici, fino appunto a quelle più complesse, ma poi anche in queste forme di vita complesse, le società tecnologiche, le società della comunicazione, quale è quella in cui viviamo adesso. Queste strutture complesse non sono giustificate da questi tre principi, perché il primo principio dice che esiste una cosa che non può essere cambiata. Da questo punto di vista, sembra quasi sorprendente, no? Che noi siamo spesso a chiederci come risolvere il problema energetico. Dal punto di vista del primo principio è sorprendente, perché uno potrebbe dire, beh, l'energia non può essere distrutta, quindi usa quella di ieri, e lì, usala di nuovo. Invece questo non è vero, perché il secondo principio è chiaro, mette in evidenza che l'energia, man mano che si passa da una forma all'altra, ogni volta che si realizza un processo di conversione, oppure un processo produttivo, come dirò più avanti, la parola che userò più avanti, l'energia viene in qualche modo degradata, viene convertita in calore a bassa temperatura, che non è più utile. L'energia è lì, ma non si può più utilizzare. Quindi, il secondo principio dice che alla fine tutto diventerà omogeneo, e il primo, che il contenuto energetico di tutto quanto sarà lo stesso. Ma non dice nulla di perché, in un sistema lontano dall'equilibrio, dovrebbero evolversi strutture complesse. E questa ricerca, cioè la cosiddetta ricerca del quarto principio, è una questione che in ambito scientifico, è un centinaio di anni che viene, diciamo così, affrontata da scienziati, ingegneri, diciamo così, divulgatori di diverse discipline. Quindi, sono state proposte diverse formulazioni. Quella che io preferisco, un po' perché è stata formulata da uno scienziato che ha una formazione simile alla mia, un mio collega della Duke University, è il cosiddetto principio costruttale. Il principio costruttale è quello che vedete scritto, ve lo leggo in italiano, affinché un sistema di flussi, di dimensione finita, possa persistere nel tempo, cioè affinché un sistema possa vivere, la sua configurazione deve evolvere, in modo da garantire una disponibilità sempre maggiore dei flussi che scorrono attraverso di esso. Questo può essere poi riformulato a seconda del sistema che stiamo considerando anche in un modo più preciso da un punto di vista matematico, ma questa è, diciamo, la formulazione originale dalla quale poi ha tratto ispirazione una letteratura vastissima che considera questo principio costruttale. Quindi, una domanda potrebbe essere se la complessità, diciamo, di alcuni sistemi che vediamo in natura, per esempio la struttura degli alberi, la struttura dei cristalli di neve, la forma dei fulmini, soprattutto la forma dei bacini idrografici, o la struttura dei polmoni nei mammiferi, rispettano questo principio, cioè sono strutture che si sono formate ottemperando a questo principio costruttale. Perché non possiamo applicare anche questo stesso principio a un sistema produttivo, a un sistema che in realtà è costituito da una rete di flussi, effettivamente, che collegano dei nodi dove avvengono dei processi di conversione, o processi di conversione dell'energia, oppure processi produttivi tali e quali. Questo, diciamo, è un po' l'idea del lavoro. Qualcuno potrebbe obiettare che ridurre tutto a un sistema modellato come flussi di energia e riduttivo, questo certamente lo è, perché qualunque modello coglie solo alcuni aspetti della realtà che vuole rappresentare, però, diciamo, siccome abbiamo visto prima i tre principi della termodinamica, tutti in qualche modo parlano dell'energia, del calore, del lavoro che può essere prodotto, quindi ritengo che questo aspetto sia molto, molto importante anche per i sistemi produttivi. Quindi la prima idea sarebbe quella di usare il flusso di energia per modellare i flussi che scorrono attraverso il sistema produttivo. Però effettivamente questo si rivela un problema, usare l'energia in quanto tale, proprio per quel motivo che dicevo prima, l'energia non dà conto di quello che si consuma, l'energia non può essere distrutta. Quindi è più proprio, è decisamente più opportuno utilizzare l'exergia, che è una grandezza simile all'energia e che rappresenta, purtroppo devo introdurre già una definizione, il massimo lavoro meccanico, cioè il lavoro meccanico che è ottenibile dalla coppia sistema più ambienti di riferimento. Quindi io ho il sistema, ma non posso definire la sua exergia se non tengo conto anche dell'ambiente di riferimento al quale appunto mi voglio riferire, che è caratterizzato dalla temperatura, pressione e composizione. Questo è un modo, a mio avviso, significativo di modellare sicuramente tutti i processi di conversione d'energia e questo è acquisito nell'ingegneria energetica, ma anche gli altri tipi di processi produttivi secondo me risultano significativamente descritti da questo tipo di approccio. Quindi tra il sistema e l'ambiente si instaurano delle relazioni solo tra questi due e da questa interazione noi estraiamo del lavoro meccanico. Quando il sistema viene portato in equilibrio con l'ambiente, cioè quando il processo non può più andare avanti perché il sistema ha raggiunto l'equilibrio con l'ambiente, l'exergia è stata completamente estratta. Banalmente, possiamo fare riferimento a un caso termico, se noi abbiamo un serbatoio ad alta temperatura e l'ambiente è alla temperatura usuale, per esempio, 20 gradi, noi possiamo usare questa differenza di temperatura per attivare un ciclo termico e produrre del lavoro meccanico. Questo è o ben noto a chi ha un minimo di formazione tecnica oppure è largamente intuibile. Ovviamente, durante questo processo il serbatoio si raffredda. Quando questo raggiunge la temperatura dell'ambiente non ne facciamo più nulla. Quindi, l'exergia è descritta in molti ambiti, in pratica, corrisponde a quella che è l'idea intuitiva che abbiamo di energia quando ne parliamo di fuori della termodinamica. Quando ne parliamo di fuori della termodinamica noi non intendiamo molta energia come molta energia nel mare a 22 gradi, ma intendiamo molta energia elettrica per accendere le lampadine, molto lavoro meccanico per muovere le automobili e così via. Quindi, una volta che abbiamo diciamo così introdotto questo concetto di exergia voglio anche stollinare che l'estrazione di lavoro è resa possibile da un disequilibrio. Noi abbiamo visto il caso brevissimamente di un disequilibrio di tipo termico ma anche disequilibrio di tipo meccanico ovviamente come avviene quotidianamente nelle centrali idroelettriche oppure un disequilibrio di tipo chimico con l'ambiente di riferimento costituiscono un'occasione di exergia della coppia sistema ambiente. Ma diciamo per quanto riguarda il nostro obiettivo che è quella di modellare i sistemi produttivi questo tipo di ambiente cioè l'ambiente di riferimento per il calcolo dell'exergia ancora non è adatto perché per definizione è omogeneo e quindi non contiene alcuna risorsa non contiene nulla di quello che viene utilizzato dai processi produttivi delle risorse ambientali per esempio le riserve di combustibili fossili o i giacimenti di minerali grezzi o diciamo così gli accumuli di biomassa negli ecosistemi e così via ma inoltre è caratterizzato da una temperatura e pressione e anche composizione costanti per cui non può essere in alcun modo modificato dalla presenza del sistema produttivo e questo è un limite come vedremo meglio tra un attimo quindi questo tipo di ambiente che possiamo definire come l'ambiente termoeconomico perché la termoeconomia è un campo diciamo così dell'ingegneria energetica che tratta proprio questo tipo di sistemi costituito da una matrice che è a zero exergia e da dei tank degli accumuli di quelle che sono le risorse che possiamo pensare di utilizzare che sono caratterizzate da un loro livello exergetico faccio notare che nel caso in cui uno di questi accumuli di uno di questi accumuli venisse per esempio compromesso il confinamento venire meno del confinamento comporta l'insorgere di reazioni tra diciamo così lo sfondo a zero exergia e per esempio il composto chimico che avevamo dentro nel serbatoio e il progredire di queste reazioni porta alla distruzione del contenuto exergetico e alla formazione di semplicemente altro ambiente almeno questo l'equilibrio quindi diciamo noi abbiamo questo stock di exergia nell'ambiente che consideriamo però un modo di perderlo è quella di compromettere il confinamento il confinamento delle risorse che abbiamo identificato quindi adesso che abbiamo queste nuove definizioni queste nuove definizioni alla mano possiamo possiamo introdurre ne possiamo introdurre ancora un paio ma prima di questo vogliamo vedere com'è è possibile descrivere un processo produttivo quindi diciamo qui è un caso molto elementare molto schematico abbiamo un processo produttivo qui che è identificato come la produzione di energia da fonte fotovoltaica però come è fatto c'è una prima parte in cui c'è una fase di estrazione e preparazione degli materiali grezzi c'è una fase in cui viene realizzato l'hardware cioè l'impiantistica per la produzione energetica e poi c'è una parte di energy conversion in cui l'energia che viene direttamente dall'ambiente cioè dal sole viene convertita in energia elettrica ho perso il puntatore eccolo qua in energia elettrica qui ecco logicamente per mettere in collegamento l'ambiente che abbiamo definito prima cioè la matrice con le varie riserve di combustibili biomassa eccetera con il prodotto gli utenti che consumano il prodotto in questo caso la potenza elettrica ho bisogno di tener conto anche di altri elementi di solito in questo caso noi abbiamo messo proprio il minimo indispensabile abbiamo messo un blocco che rappresenta in qualche modo in particolare abbiamo messo un blocco che rappresenta l'industria che produce tutto l'hardware tutta l'impiantistica necessaria per mantenere il resto del processo produttivo quello che vediamo qui nel blocco nel blocco azzurro quindi in estrema sintesi l'ambiente attraverso diversi componenti una rete di flussi è collegato con le utenze e quindi è possibile a questo punto calcolare per ciascun flusso l'exergia del flusso stesso e anche l'exergia prelevata o distrutta dall'ambiente per mantenere quel certo flusso questo diciamo non è proprio immediato sarebbe immediato se il sistema fosse una semplice catena in cui ogni step produce per il successivo e basta però diciamo anche se questo è un sistema a rete è possibile realizzare questo conto con delle tecniche di accounting in punto output simili a quelle definite da Leon TF in ambito economico nel 1973 una volta che ho definito questo che ho chiamato qui capastellato perché tradizionalmente si chiama così in questo ambito e quindi capastellato è il costo exergetico unitario cioè un costo però calcolato in termini di exergia di che cosa delle risorse naturali delle risorse che stavano nell'ambiente io trovo che questa che questa valutazione sia l'opportunità di fare questa valutazione sia già di per sé interessante adesso vogliamo applicare il principio costruttale perché è questa quella che è la cosa nuova che possiamo introdurre per descrivere in qualche modo la dinamica come si evolvono questi sistemi a rete e per introdurre il principio costruttale la prima cosa da fare è identifichare il flusso vi ricordate che il principio costruttale imponeva al sistema di avere sempre una sempre maggiore disponibilità di flussi attraverso di esso allora analogamente a quanto è stato fatto in altri ambiti per esempio nell'analisi dei bacini idrografici o nel raffreddamento dei componenti elettronici per i quali rispettivamente il flusso è la portata del fiume alla foce o il calore complessivo estratto dal circuito elettrico la proposta è di identificare il flusso con il prodotto totale ottenuto il prodotto totale ottenuto dal certo processo di conversione o processo produttivo che stiamo considerando quindi tradotto in questi termini applicato a questo modello il principio costruttale suona che la configurazione del sistema deve evolvere quindi stiamo considerando in qualche modo la dinamica in modo da garantire una sempre maggiore disponibilità del prodotto totale ottenuto una sempre maggiore disponibilità del prodotto quindi letto così suona come un aumento continuo della produzione la produzione deve aumentare continuamente ma questo se facciamo se pensiamo a un sistema biologico per esempio non è così controintuitivo perché per esempio afferma che i sistemi viventi devono produrre sempre maggiore biomassa di quel dato ecosistema quindi non è tanto strano per quanto riguarda invece i sistemi tecnologici in particolare che sfruttano risorse ambientali risorse che vengono reperite nell'ambiente e bisogna tenere conto che quando sfruttiamo una risorsa che è in qualche modo contenuta in una riserva in un accumulo lo sfruttamento funziona un po' secondo la curva di Habert come vedete qui insomma questa è una curva molto popolare resa popolare dal picco di Habert applicato alle proiezioni sulla disponibilità di petrolio nel futuro vedete la curva di Habert è fatta così c'è no ho sbagliato ho sbagliato bottone c'è una parte in cui la crescita del flusso che riusciamo a estrarre dalla riserva è praticamente libera da qualsiasi vincolo e segue un andamento simile a una curva esponenziale poi c'è una zona del picco in cui si abbandona l'esponenziale e ci si assesta attorno a un massimo più o meno e poi ci si assesta su quella che è la cosiddetta carrying capacity la capacità portante della risorsa che può essere o un valore costante nel caso per esempio di energie rinnovabili di tipo solare oppure un valore intermedio di altre fonti rinnovabili che potrebbero essere per esempio biomasse forestali che sono state nel frattempo in qualche modo consumate oppure nel caso delle risorse fossili la previsione è che nel lungo periodo si andrà assentaticamente a zero questa è la previsione del modello di Habert benissimo adesso combiniamo questo con quello che abbiamo trovato prima prima avevamo concluso che il prodotto il prodotto del sistema produttivo deve sempre aumentare perché questo è il principio costruttale ma il prodotto della moltiplicazione perdono scusate il besticcio di parole la moltiplicazione del prodotto P per il suo costo exergetico che abbiamo definito prima K stellato è uguale alla somma dell'exergia estratta dall'ambiente alla somma dell'exergia estratta dall'ecosistema ora se per via della curva di Habert noi sappiamo che a un certo momento entreremo in una fase in cui o siamo già entrati dipende da che tipo di risorse stiamo considerando in cui il flusso è decrescente il flusso prodotto dalla risorsa esterna è decrescente non resta che concludere che per ottemperare il principio costruttale anche il costo exergetico il costo capastellato deve essere decrescente per cui la nuova versione del principio costruttale suona che la configurazione del sistema evolve in modo da garantire una sempre maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse ambientali soggette a restrizioni questo mi sembra un messaggio già più positivo ma ancora più interessante è vedere cosa succede se questa cosa viene portata avanti nel tempo consideriamo di nuovo il sistema che abbiamo identificato prima quello del sistema di produzione di un sistema fotovoltaico che poi ottiene energia elettrica se questa evoluzione verso costi decrescenti viene protrata per un tempo sufficiente l'attesa è che a un certo momento il costo exergetico del prodotto il costo exergetico dell'energia prodotta risulti minore del costo exergetico dell'energia elettrica che pure viene usata a monte nel processo produttivo questo è tipico per esempio l'energia elettrica viene usata in tutti i processi produttivi più o meno e quindi i processi che la producono contemporaneamente ne consumano e ne producono ma se l'evoluzione procede conformemente al principio costruttale noi abbiamo alla fine che è più conveniente cioè è più corrispondente alla tendenza a una discesa dei costi l'instaurarsi di un ricircolo cioè utilizzare l'energia stessa che è prodotta da un sistema del stesso tipo questo a me così vi rendo conto che è un risultato piuttosto teorico ma sembra già piuttosto interessante perché identifica il principio costruttale come la giustificazione per l'insorgere di ricircolo nel sistema produttivo e questo è in qualche modo un fondamento per tutti i flussi che noi vogliamo ricircolare e riciclare ma è anche il fondamento per cui questo tipo di ricircolo si presenta in natura in tutti i sistemi in qualche modo legati alla conversione energetica naturale che avviene negli ecosistemi ci sono diversi esempi di cicli di cicli biochimici in natura il più importante è il ciclo uno dei più importanti è senz'altro il ciclo di Krebs che permette la respirazione cellulare poi ce n'è altri c'è un ultimo aspetto mi dispiace che sto andando un po' lungo ma questa è forse la cosa più più importante abbiamo visto che in qualche modo il principio costruttale si risolve per i processi produttivi in una sorta di postulato per cui bisogna produrre a costi minori questo in ambito industriale di solito è una cosa che viene accettato ampiamente produciamo a costi minori adesso vediamo che cosa dobbiamo farne degli scarti dei residui cioè di quelli che sono i flussi che il processo produce ma che non sono il prodotto allora schematicamente abbiamo tre opzioni uno la prima è quella di scaricarli direttamente nell'ambiente così come sono l'altra è quella di neutralizzarli cioè di realizzare qualche tipo di processo in modo da azzerare la loro exergia cioè renderli chimicamente e termicamente simili all'ambiente e l'ultimo è quello di convertirli in qualche tipo di nuovo output in qualche tipo di output per qualche tipo di input per qualche nuovo processo produttivo che possa ottenere un prodotto diverso addizionale rispetto a quello che avevamo prima e questo secondo me è molto in linea con quello che diceva Paolo stamattina allora la prima ipotesi quella di scaricare i residui direttamente così nell'ambiente sembrerebbe la più conveniente dal punto di vista della riduzione dei costi perché è proprio la giustificazione che si porta molte volte costa troppo mettere sistemi di abbattimento o di neutralizzazione benissimo costa molto ma in che termini questo è vero nel quadro che stiamo delineando solamente se questo scarico non comprometti in alcun modo il contenuto exergetico lo stock exergetico dell'ambiente ma se l'emissione modifica la matrice per esempio altera la temperatura una delle cose che purtroppo sta accadendo adesso attraverso il meccanismo dell'emissione di anidride carbonica se questo altera la matrice oppure se distrugge il confinamento di alcuni degli stock di exergia che sono presenti nell'ambiente termoeconomico questo è un costo exergetico che deve essere caricato sulla produzione nel quadro complessivo che abbiamo delineato e quindi questo rende a un certo momento cioè quando queste emissioni diventano quantitativamente importanti è un costo che venendo caricato sui prodotti li rende meno convenienti e alla fine la soluzione più conveniente è quella di utilizzare i residui come nuovi input chiudendo i circoli l'opzione più conveniente diventa questa perché alla fine le risorse originali che erano caricate su un solo prodotto adesso vengono caricate su più prodotti e quindi il loro costo unitario può scendere quindi in conclusione applicando il principio costruttale a quel semplicissimo modello exergetico che ho presentato prima possiamo concludere che il sistema deve evolversi sempre verso costi unitari minori dei prodotti e questo è perfettamente accettabile però i costi devono essere valutati in termini di exergia delle risorse delle risorse prelevate o distrutte dell'ambiente e non delle risorse locali che vengono consumate alla porta del processo produttivo questo comportamento non è conseguenza di qualche considerazione di opportunità ma è la conseguenza di un principio fisico per cui l'alternativa non è la ridotta reddittività o un compromesso meno gratificante dal punto di vista diciamo così estetico ma è diciamo candidarsi come sistema energetico come sistema produttivo che si muove verso l'estinzione verso la direzione sbagliata abbiamo visto come i ricircoli possono sorgere naturalmente nell'evoluzione dei processi produttivi questo secondo me è un risultato molto interessante anche da un punto di vista non industriale non ingegneristico ma invece dal punto di vista industriale ingegneristico il fatto che i residui non devono essere accumulati indefinitamente nell'ambiente quindi l'evoluzione di strutture produttive altamente interconnense con molti ricircoli con molti flussi che vengono appunto ricircolati indietro nella catena produttiva è un fatto naturale che porta a una maggiore efficienza che è lo stesso che il trend verso maggiori efficienze ed è una conseguenza del principio costruttale chi segue diciamo così l'idea di adeguarsi a questo principio è candidarsi per persistere nel tempo come dice il principio diversamente i sistemi si candidano per l'estinzione questo non vuol dire come dire la fine del mondo la fine della vita sulla terra no magari vuol dire la fine di una certa tecnologia la fine di una certa società industriale questo è una cosa che nella storia è successa è successa già nel passato solo a scala molto più piccola adesso il rischio è molto più grande grazie per l'attenzione non è affatto così perché appunto in prima battuta sì io ho cercato di solo qua ho cercato di suscitare appunto una certa sorpresa aggiungendo a questa apparente conclusione bisogna produrre di più però la maggior produzione deve essere ottenuta attraverso l'efficienza perché la curva di Abbott ci dice che stiamo andando verso per esempio per i combustibili fossili stiamo già andando verso una fase declinante in cui non potremo più estrarre quindi bisogna essere più efficienza quindi un miglior consumo ma questo è un risultato l'altro risultato è quando questa efficienza diciamo viene portata avanti in maniera diciamo così effettiva quando produce risultato c'è la tendenza all'insorgenza dei ricircoli e quindi il ricircolo è esattamente una conseguenza necessaria di questo tipo di approccio è questo che giustifica in qualche modo tutte le considerazioni legate alla circolarità che abbiamo visto durante questa giornata almeno dal punto di vista del principio costruttale è proprio questo secondo me il punto diciamo interessante da un punto di vista concettuale che la ricerca della maggiore efficienza è la stessa cosa della ricerca di una maggior circolarità di una maggior capacità di feedback e di riutilizzo continuo dei propri residui è la stessa cosa non sono due cose in contrasto appunto l'apparente contrasto è data dalla valutazione sbagliata che si fa dei costi valutazione in termini di risorse locali consumate alla porta dell'impianto produttivo e non alla fine della catena di consumi indiretti che necessariamente affonda nell'ambiente nelle risorse naturali quello che è lo stock exergetico disponibile attualmente per chiudere diciamo così simbolicamente il cerchio la mattina il professor Pauli evocava il valore della sistema dinamica quindi dell'analisi dinamica dei sistemi in particolare dei sistemi ecologici in senso lato sistemi ecologici in che misura cercare di identificare la capacità di sopravvivenza di un sistema trova il suo duale nella capacità di definire l'insieme di sistemi ecologici capaci di sopravvivere in certe condizioni diciamo in un certo senso è la stessa cosa cioè è proprio questo il punto qui abbiamo visto una cosa molto 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 semplice proprio per poter comunicare l'idea che poi è il semplice modello che come dire mi ha fatto venire l'idea di presentare questo tipo di risultato ma diciamo volendo applicare questo ai sistemi reali certamente sarà necessario avere modelli dinamici modelli molto più complessi purtroppo e per esempio sarà necessario distinguere tra le varie fonti tra le varie risorse che stiamo consumando perché per esempio per alcune risorse può essere che si è già nella fase declinante della campana della curva di Habert per altre può essere di no quindi è perfettamente sostenibile se noi consumiamo in maniera diciamo così poco efficiente risorse molto abbondanti mentre non è assolutamente sostenibile se consumiamo in maniera poco efficiente dal punto di vista delle risorse primarie risorse che si vanno riducendo quindi per rendersi conto di tutta questa complessità è necessario sviluppare un modello dinamico che possa contenere al suo interno tutti questi aspetti insomma quindi sì certamente sì l'unica possibilità è quella di cercare di prolungare il tempo di vita del sistema o ridurre per così dire la probabilità di estinzione in poche parole ridurre la probabilità di estinzione mi sembra un ottimo risultato è bene o male è tutto quello che è quello che fanno tutte le specie viventi il massimo che si può fare è ridurre la probabilità di estinzione da un certo punto di vista però tenete presente che la curva si assesta sulla care incapacity adesso non la sto a rimettere ma ve la ricordate la curva si assesta sulla care incapacity dipendendo anche dalle tecnologie dipende anche dalla tecnologia che noi abbiamo per lo sfruttamento della risorsa e quindi diciamo così esiste sempre la possibilità questo sì di utilizzare tecnologie migliori che spostino il care incapacity delle energie rinnovabili su un livello più alto per dire è ancora possibile trovare dei sistemi di conversione di energia solare più efficienti oppure è possibile effettivamente identificare nell'ambiente delle risorse che prima non c'erano o che prima non si vedevano questo sì è possibile però non si può far conto che questo accada perché noi siamo una specie fortunata d'accordo benissimo allora non vorrei rubare troppo tempo agli altri comunque prego prego se l'analità che paghiamo è la diossina che poi ci dovremmo la passione io vi chiedo dove faccio io a capire credo di aver capito la domanda ecco diciamo questo questo caso che mi che mi porta lei è un caso difficile di affrontare a un livello così astratto diciamo però diciamo una risposta in teoria c'è effettivamente la diossina che viene emessa la diossina che viene emessa ha un impatto nel ambiente termoeconomico o modifica la matrice quindi distrugge l'exergia di qualche tipo di risorsa che noi possiamo utilizzare oppure addirittura distrugge qualche tipo di riserva diciamo così pregiata che esiste che esiste nell'ambiente per esempio ecosistemi viventi addirittura se c'è un impatto nella salute umana tutto questo ha poi un costo che si chiama costo indiretto ma in realtà è direttissimo perché bisogna produrre più ospedali più medicine più strutture sanitarie eccetera quindi la valutazione è questa è per questo che bisogna usare questo sistema a rete perché nel sistema a rete vedo un po' gli effetti sotto tutti i punti di vista d'altra parte pensi facendo un esempio estremo se l'emissione avvenisse in un deserto disabitato dove non c'è assolutamente alcun diciamo così organismo che è in grado di subire un danno si potrebbe tollerare anche l'emissione no? benissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti